Angie Bowie, al secolo Mary Angela Barnett, ha abbandonato la casa del grande fratello. Sto parlando di Celebrity Big Brother, la versione inglese proprio di questo GF. La conferma è giunta oggi, dopo che nelle immagini andavano da ieri l'ex moglie di David, Bowie, per l'appunto, era stata vista a preparare la sua valigia in preda in una sorta di crisi isterica, avrebbe chiesto di uscire. Un portavoce di Shannon Five, l'emittente che trasmette il reality show, avrebbe riferito che dopo essersi sentita poco bene, per diversi giorni, Angie Bowie avrebbe deciso di abbandonare il programma. La sua uscita verrà mostrata la puntata in onda questa sera, il programma era stato indice nei giorni scorsi dopo la decisione degli autori di mostrare il dolore della ex modella 66enne nell'apprendere la triste notizia della morte dell'ex 42. Grazie, Gabriele, il video termina qua. Un saluto e a presto.